Cosa vuole fare in futuro? A me mi è piaciuto tanto e penso che insieme possiamo andare un po' più avanti con questa squadra. Conosce già il Brindisi, ha visto qualche partita? Sì, ha visto già iniziato a Nardo, siamo venuti a tre giochi e ora vediamo gli altri giochi ma la squadra è buona. Con quale quota entrerà a far parte? Si sa, già avrete delle quote divise in parti uguali? Queste sono cose che non diciamo nel tv. Sono entusiasti del nuovo ingresso in società tutti i tre soci di maggioranza del Brindisi, Roma, Galluzzo e De Finis. Speriamo che questa famiglia si ingrandisca molto di più. Finalmente cominciamo ad ampliarci, voi sapete benissimo, voi Brindisini tutti che abbiamo vissuto momenti più che altro di fuga, invece adesso finalmente il tempo ci sta dando ragione e cominciamo a avere questi ritorni. Io continuo a dire il ritorno addirittura di un italo-tedesco ci fa enormemente piacere. Mi auguro che ci siano invece anche un ampliamento ai Brindisini. L'imprenditoria Brindisina è sana, è buona, è valida, è giusto che anche un po' di Brindisini ci vengano a dare una mano. Se vengono ci fanno piacere, se no andiamo avanti da soli. Diciamo che questo è un momento bello con l'entrata del nuovo socio, almeno fino ad oggi ancora non è ufficiale perché chiaramente finché non mettiamo nero su bianco chiaramente non diventerà mai ufficiale. Lo spero che sia quanto prima perché sai come bisogna fare gli scongiuri altrimenti non si sa mai se non si ha la certezza di avere definitivamente un altro socio. E' certo che la società apre a tutti. Io spero che non solo lui ma ne vengano tanti altri e che ci diano il supporto giusto per poter chiaramente fare delle cose veramente belle qui sul territorio, per la città di Brindisi, per i tifosi, per tutti quanti e principalmente per noi e per la società. Intanto prosegue l'allenamento dei bianco-azzurri in vista della trasferta di Nocera. Maiuri per il match in terra campana dovrà rinunciare a Miale e cent'anni infortunati. Pensate che sia una partita molto semplice o facile andare a Nocera e vincere perché oggi come oggi chiaramente come voi ben sapete tutte le squadre sono guerrite, chi si deve salvare, chi deve fare i playoff, chi vuole vincere il campionato non sarà una passeggiata.